La Zebris ha realizzato il treadmill, l'unica pedana baropodometrica tridimensionale che riesce a realizzare fino a 500 passi di impronta, in salita, in discesa e anche correndo, quindi anche un atleta potrebbe testare la propria corsa. Sulle pedane convenzionali, oltre a non essere possibile questo, montano dei sensori adattativi, al contrario di questa che invece ha sensori capacitivi. I sensori capacitivi sono sensori che non si starano e quindi sono sensori che possono prendere delle impronte scientifiche. Il gruppo Giuliani è importatore ufficiale per l'Italia della Zebris treadmill e delle sue apparecchiature elettroniche.